In un mondo che ha sempre più bisogno di misericordia, che è il cuore della vita cristiana, la vita monastica è la via maestra per contemplare Cristo, volto della misericordia del Padre. Lo ha ricordato Papa Francesco incontrando i partecipanti al Congresso degli Abati Benedettini in corso a Roma, che ha invitato a non lasciarsi scoraggiare se i membri delle comunità monastiche diminuiscono di numero o invecchiano. Perché il vostro servizio alla Chiesa è molto prezioso e perché con la vostra tipica ospitalità potete incontrare i cuori dei più smarriti e lontani, di quanti si trovano in una condizione di grave povertà umana e spirituale. In questo tempo e in questa Chiesa chiamata a puntare sempre più sull'essenziale, i monaci e le monache custodiscono per vocazione un peculiare dono e una speciale responsabilità, quella di tenere vive le oassi dello Spirito, dove pastori e fedeli possono, possono attingere alle sorgenti della Divina Misericordia.